ebbè vabbè io mi scuro se faccio tanti video ma ma qua tra tra poco devo attaccare con giustizia a me piace piace condividere poi c'è un sacco di endorfine addosso portate pazienza allora sono riuscito a fare un'ora di corsetta no e mi ha telefonato Lupo strano che non mi ha telefonato nessuno e mi sono fermato e ho formato il cronometro non sono un esaltatore assolutamente anche perché sono scarso ma vabbè c'è molta differenza tra esaltazione e consapevolezza e propri metodi solo che a un certo punto arrivo al parco Novi Sad che è 900 metri o un chilometro no e vedo un tizio a me capita una cosa strana strana per uno che non è competitivo è un discorso molto lungo che non mi fa spiegare io ho fatto tre corse tre corse camminate di quartiere tre per la mia vita e c'ho il mirino cioè ma anche quando ero ragazzo quando avevo ancora i polmoni fino a 18 anni quindi e quando uno davanti mi si viene il mirino tipo tipo i film no è il Top Gun si mi viene quindi ho beccato uno ho detto questo lo prendo un po' dopo molto poco ho detto questo questo io sto dietro poi ho detto questo è un giro almeno del circuito che ha 900 metri un chilometro lo faccio allora ho tagliato il parco Novi Sad e non è male e l'ho riveccato l'ho affiancato e gli ho detto ma quanto fai scusa questo è un mezzo che non parlava italiano e insomma morale del favore questo faceva 10 chilometri non sperava quanto faceva ma io dietro non gli stavo secondo me faceva il quattro e mezzo torno a dire che a me non interessa cioè è ovvio che se ti svegli la mattina ti accorge che sei migliorato ti fa piacere però perché significa anche il tuo corpo sta migliorando però non è che ok non è che entri nella graduatoria per l'olimpiadi stava divertente però la mia mia discorso posso dire che questo era un bel ragazzo giovane alto non sono né omosessuale né omofobo però era la metà di me